Hi peeps, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come avrete già letto dal titolo andiamo a fare l'unboxing della box che vi arriva a casa di DrSmile con all'interno tutti quanti i vostri allineatori. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il brand per aver gentilmente sponsorizzato questo video e quindi unboxiamo. Allora come prima cosa vi arriva a casa appunto questa scatola gigantesca molto molto bella ed estetica vedete com'è fatta così con questa forma rettangolare devo dire che è meraviglioso e al di sopra della scatola c'è appunto scritto DrSmile. Una volta aperto il pacco vedete qua c'è scritto ready una cosa molto carina e all'interno trovate subito questa che è la guida informativa. All'interno quindi c'è questa qui che è la guida informativa dove ci sono tutte quante le varie info importanti, lo leggete e poi passate allo strato successivo. Sotto infatti una volta tolto il primo piano passiamo all'interno della box dove vediamo due scatole. All'interno della prima scatola ci sono degli accessori, all'interno della seconda scatola ci sono invece tutti quanti i vostri allineatori. Partiamo con la scatola più piccolina anche questa ovviamente super bella brandizzata e una volta aperta sfilando il pezzo sopra troviamo un accessorio molto molto utile che vi accompagnerà durante tutto quanto il vostro percorso di allineamento denti ovvero una magnifica pochette firmata DrSmile dove all'interno abbiamo tante cose interessanti. Prima cosa troviamo questo qui che è un oggetto che serve a limare gli allineatori se magari qualche volta può capitare che vi possono dare fastidio un qualche punto magari sulle gengive o in fondo alla bocca li limate leggermente con questa lima molto utile. Altro accessorio per aiutarvi ad inserire gli allinatori magari le prime volte c'è questo oggetto qua che serve per allargare bene la bocca molto tale che inserite gli allineatori e li mettete bene. Ultimo prodotto che c'è all'interno della pochette anche questo molto utile sono questi oggettini qua praticamente voi li mettete in mezzo ai denti e spingendo gli allinatori aderiscono bene quindi questo è un kit assolutamente d'aiuto per magari le prime volte che indossate gli allineatori oppure come la lima può essere utile durante tutto il vostro percorso perché appunto può aiutarvi a limare laddove magari l'allineatore vi può dare un po' fastidio quindi molto molto carina. Passiamo adesso invece all'altra box che c'è dove ci sono i vostri allineatori. Aprendo poi la scatolina all'interno troverete tutti i vostri allineatori chiusi in delle bustine singolarmente e numerate quindi quando voi dovete mettere la mascherina numero uno ci sarà scritto numero uno l'aprite e l'indossate. Dopo 14 giorni passate alla seconda e così via. Vi faccio vedere nel mio caso questa è una mascherina numerata appunto numero 6 e la dovrò indossare prossimamente. Ci tengo anche a dire che gli allineatori di Dr. Smile sono creati con il materiale Crear Quartz che è un innovativo materiale che è resistente alla rottura quindi non avrete problemi di rottura del lineatore. È antimacchia e soprattutto è flessibile quindi facile da indossare. Detto ciò grazie mille Dr. Smile ancora per aver sponsorizzato questo video. Spero vi sia piaciuto soprattutto vi sia stato utile per capire che box meravigliosa che vi arriverà a casa una volta che inizierete il percorso con Dr. Smile. E niente grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Bye!